Live dall'Ancomarzio, ecco i ragazzi della Roma di Bertomuzzi di 99, giovanissimi regionali d'eccellenza fascia B reduci dalla vittoria del prestigioso Memorial Ielasi al finale ai rigori contro il Barcellona che si riscaldano nelle battute che precedono il match qui all'Ancomarzio di Ossia Lido contro l'Ossia Mare di Mr. Greco ecco i ragazzi che in una porzione del campo antistante degli spogliatoi si riscaldano e si preparano per la sfida con le indicazioni dei loro dirigenti e compagnatori e del Mr. Roberto Muzzi che si trova adesso qui a parlare con i propri ragazzi Ricordiamo appunto che i ragazzi, i giovani giallorossi, sono reduci dalla vittoria in finale con il Barcellona nel Memorial Ielasi che si è svolto nella sua terza edizione al campo del Tor Trettestia e che appunto è stata la prima vittoria per quanto riguarda il club giallorosso nel suo settore giovanile prima vittoria del torneo Memorial Ielasi e prima vittoria del corso del nord e quindi poi ci si spettano in altre storie i compagni Jake e il corso del Jabba un grande piccolo Grazie a tutti.